Al primo settembre mancano 42 giorni lavorativi, contando anche i sabati. Calcolando invece 5 giorni settimanali si scende a 36 giornate. Davvero poche, anzi pochissime, soprattutto se si considerano i tempi che occorrono all'apparato ministeriale per assumere decisioni e per metterle in pratica. Eppure Aviale e Trastevere non sembrano particolarmente preoccupati e la stessa ministra Azzolina ostenta sicurezza. Ovviamente non vogliamo gufare, ma i motivi per essere preoccupati sono davvero tanti. Intanto, come abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza nel nostro portale più volte, a tutt'oggi non è per nulla chiaro come potranno essere organizzati gli orari scolastici e soprattutto come sarà possibile garantire il tempo pieno alla scuola dell'infanzia e alla primaria, dove più pressanti sono le esigenze delle famiglie. Per quanto se ne sa è già da parecchi giorni che la ministra sta incontrando i diversi uffici scolastici regionali, ai quali era stato dato il compito di effettuare rilevazioni sulla disponibilità di spazi nelle varie realtà territoriali. C'è la convinzione a livello ministeriale che un po' dovunque sia possibile trovare locali per suddividere le classi ed evitare gruppi di studenti troppo numerosi, ma forse non è ancora del tutto chiaro che serviranno anche insegnanti e collaboratori scolastici in più. Dal governo fanno sapere in proposito che grazie al decreto rilancio sarà possibile assumere almeno altri 50.000 docenti e ATA per venire incontro alle esigenze delle scuole, ma i conti non tornano proprio. 50.000 assunzioni corrispondono a poco più del 5% dell'organico complessivo, mentre dal ministero già nei giorni scorsi avevano fatto sapere che, secondo le prime rilevazioni, ci vorrebbero spazio e personale per almeno il 15-20% degli studenti. Il punto più delicato però è un altro. È molto probabile che le necessità siano maggiori in alcune aree e inferiori in altre e non è affatto detto che nelle regioni con maggiori esigenze di personale le graduatorie presentino una adeguata disponibilità di docenti. Intanto, proprio nella giornata odierna, i comitati territoriali di priorità alla scuola scendono in piazza in molte città italiane per chiedere che le lezioni riprendano a pieno ritmo e senza decurtazioni di orario. Obiettivo davvero difficile da raggiungere, stando almeno alle regole fissate dal Comitato Tecnico Scientifico. Il commissario straordinario Arcuri, per parte sua, sta attivando le procedure per gli acquisti di arredi e dispositivi di protezione, per i quali non mancano i finanziamenti che però potrebbero risultare comunque inadeguati, visto che si parla di milioni di mascherine da fornire quotidianamente ai 40.000 plessi scolastici e milioni di banchi monoposto di nuova generazione che lasciano peraltro perplessi insegnanti e dirigenti scolastici. Si tratta infatti di postazioni singole dotate di piani di appoggio poco ampi e di ruote, tanto che c'è già chi ironizza sulla possibilità che, soprattutto alla primaria, i banchi vengano usati dagli alunni per scorazzare nelle aule e nei corridoi. Sempre meno, però, negli ultimi giorni si parla di fare lezione nei musei, nei teatri e nelle biblioteche, segno che evidentemente al Ministero si incominciano a fare i conti con la cruda realtà, tanto che già si dice che è imminente un nuovo decreto con ulteriori stanziamenti, soprattutto per le assunzioni. Il tema è di drammatica attualità, quindi noi continueremo ad occuparcene ancora nei prossimi giorni e quindi seguiteci su questo canale. L'appuntamento per il prossimo video è lunedì 20 luglio e ovviamente però continuate anche a leggerci sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come al solito.